Manca davvero poco alla formalizzazione dell'accordo che porterà all'Inter il gioiellino del Pescara Mamadou Koulibaly. Ieri un nuovo incontro tra le parti per la definizione dei dettagli tra i due club. Koulibaly andrà all'Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato a 4 milioni di euro, la cifra con la quale il presidente Sebastiani effettivamente valuta il giocatore senegalese. Dall'altra, l'Inter è pronta a girare in rival adriatico, in prestito secco, il centrocampista della primavera classe 98, Marco Carraro. Nelle prossime ore sarà la volta dell'agente di Koulibaly, Donato Di Campli, che incontrerà il club nerazzurro per mettere a posto altri dettagli. Ma l'asse Pescara-Inter è caldissimo. Venerdì dovrebbe essere il giorno della firma di Andrea Palazzi, centrocampista classe 96. In questo caso la formula sarà quella del prestito con diritto di riscatto per il Pescara e contro riscatto per l'Inter. E si attendono ulteriori sviluppi sul fronte del terzino Federico Vaglietti, altro piccolo asso della primavera di Stefano Vecchi. Gianluca Caprari invece il prossimo anno potrebbe indossare la maglia della Sampdoria. L'Inter, proprietaria del cartellino dell'attaccante romano, potrebbe inserire Caprari come contropartita tecnica nella trattativa che porterà alla corte di Luciano Spalletti, il difensore blucerchietto Skriniar. Questione Gans. Il Verona non riscatterà l'attaccante di proprietà della Juventus, anche se ci sarà comunque da aspettare la fine di questa giornata con la scadenza del termine per le opzioni. Dopodiché il Pescara potrà formalizzare l'accordo. Ieri, intervenuto ai microfoni di Sky, ha parlato anche il papà di Simone Andrea, Maurizio Gans. Per lui l'importante è giocare, ha detto l'ex attaccante di Inter e Milan. Quest'anno ha potuto farlo poco, ma mi auguro che l'anno prossimo possa trovare più spazio. Gans potrebbe legarsi al Pescara con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma è noto che la Juventus vorrebbe cedere il cartellino e potrebbe eventualmente agevolare le modalità di pagamento al Pescara, che nel caso acquisirebbe il centravanti a titolo definitivo. Tra gli altri obiettivi per l'attacco c'è un ex come Pierluigi Cappelluzzo, ma sul centravanti di proprietà del Verona ci sono anche Brescia e Ascoli.